In un casolare situato tra Torre Rinalda e Casarabate sono state ritrovate pistole, fucili, numerose munizioni ed un ingente quantitativo di polvere da lancio. E questo è il bilancio di un blitz dei carabinieri del comando provinciale di Lecce avvenuto ieri nelle campagne del territorio che si estende a nord del capoluogo. I militari hanno recuperato tra l'altro un fucile a pompa, una canemozze, numerose beretta e caricatori per mitragliatori AK-47, ossia i micidiali Kalashnikov. Ma non solo. Tra il materiale finito sotto sequestro figurano pure 70 kg di polvere da lancio e addirittura, aspetto assai inquietante, della gelatina di tritolo, oltre a 95 detonatori ed apparecchi per il dosaggio delle polveri nelle munizioni. Probabile che l'esplosivo potesse servire per mettere a segno attentati di matrice estorsiva, anche se non sono da escludere altre piste. L'operazione ha visto l'impiego di decine di uomini e unità cinofile. Le indagini hanno preso il via dopo che una settimana fa i carabinieri di Brindisi, lungo la statale 613, avevano fermato due individui, uno dei quali poi arrestato per possesso di sostanze stupefacenti. Le cerche di ulteriori quantitativi di droga si sono estese fino all'area in cui è venuto il rinvenimento dell'arsenale. La zona è quella dove si cerca la settimana in latitante trepuzzino Fabio Perrone, evaso lo scorso 6 novembre dal Vito Fazzi di Lecce e dal quale le forze dell'ordine stanno dando quotidianamente la caccia. Una sorta di sfida tra il pregiudicato e le forze di polizia che potrebbero averlo incrociato l'altra notte mentre era a bordo di una moto che non si è fermata ad un posto di blocco e che ha poi fatto perdere le proprie tracce dopo l'inseguimento. Tra l'altro c'è da segnalare un nuovo episodio avvolto nel mistero e che suona come una beffa. Sulla tomba della madre del Perrone sono stati depositati dei fiori e non si sa da parte di chi. Gli inquirenti non escludono che possa averli portati proprio il fuggitivo, abile a introdursi nel cimitero del suo paese d'origine e agire indisturbato. Spetterà ora ai RIS di Roma capire se e dove siano state utilizzate le armi sequestrate oggi.